Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 16 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Cancro. Cari Cancro, da oggi inizia una fase astrologica molto promettente, ricca di spunti, belle sorprese ma anche soddisfazioni a livello lavorativo. Potrebbero essere in arrivo delle belle promozioni soprattutto per coloro che hanno studiato molto o si sono impegnati a fondo in un progetto importante. Amore in arrivo in tempi ragionevoli anche se non rapidi. Qualcosa si sta finalmente realizzando e avviando alla soluzione. Speranze appagate anche se non nel breve termine. È un periodo adatto per rompere la monotonia e cimentarsi in attività interessanti e nuove. Le esperienze di vita e rapporti interpersonali ti hanno consentito di conseguire un certo controllo su di te, insegnandoti ad esprimerti in modo più consapevole. Non date motivo al vostro partner di ingelosirsi, lo è già tanto per conto suo. Fate in modo da essere sempre trasparenti agli occhi suoi e soprattutto. Siate sinceri. In amore, momenti di confusione. Una persona del toro sarà importante. Oggi la gelosia vi pervade in modo particolare, non riuscite a contenere la vostra gelosia e la vostra rabbia. Risentimenti. Venere rispolvera in voi alcuni antichi sentimenti, avrete nostalgia di persone del passato e sarete tentati di cercarle. Fermatevi fino a che siete in tempo. Per alcuni oggi potrebbe esserci una piccola rivoluzione nella propria vita, avrete bisogno comunque di tutta la vostra creatività per fare fronte a questi cambiamenti che potrebbero anche essere epocali. Una telefonata inaspettata potrebbe cambiare il corso degli eventi. Siate prudenti. Dai tue notizie a coloro che ultimamente hai perso di vista. Troppi legami con il passato possono frenarvi, recidete subito ogni legame con il passato, non lasciate che questo turbi ancora il vostro presente. Coraggio, il futuro sarà vostro nella misura in cui troncherete ogni legaccio con il vostro passato. Giove è positivo dal toro e gratifica il vostro quotidiano. La vostra natura amabile, sensibile, artistica viene fuori in tutta la sua intensità, specie se festeggiate il compleanno nel mese di luglio. Famiglie e amici vi preparano un terreno propizio affinché vi sentiate a vostro completo agio e possiate muovervi con la delicatezza, l'affabilità, il garbo che vi contraddistinguono. Mercurio contrario, vi invita a riguardarvi dai mali di stagione come raffreddori, influenze, allergie primaverili, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Mercurio allo zenit oggi vi parla di scienza, di alta tecnologia, di intelligenza artificiale, argomento di cui preferite saperne poco. C'è qualcosa che sotto sotto vi inquieta? Sarà effetto della luna nostalgica in dodicesima casa o di Plutone sempre inquietante come il fantasma del Louvre? Nessuna voglia di uscire stasera, comunque sia il meteo la stanchezza il muso lungo vi trattengono a casa. Magari un delivery vi potrebbe consolare un po' ma non è detto. Quando il malumore è forte non c'è nulla che vi conforti più di una bella dormita. Amore ed Eros. Di sentimenti romantici ne avete a gogo, è sul sesso che stentate un po' ad esprimervi. Sarà la stanchezza lavorativa o certe regole un po' bigotte ancora da sfatare, ma comunque non sta scritto nei precetti che la notte debba concludersi facendo fuochi artificiali nell'Etone. Domani con il cuore più sereno e il corpo più vitale farete i vostri numeri con una splendida performance. Momento molto bello in amore grazie a venere super positiva in pesci. La persona che avete al vostro fianco vi dimostra quanto tiene a voi con un'espressione di sentimenti che non vi aspettavate. A parte la manifestazione esteriore d'affetto che vi sarà data, non mancherà anche una concreta dimostrazione attraverso un regalo in atteso di una certa portata. Chi di voi è invece singlo tiene una conquista amatoria ed erotica che lo sorprende notevolmente. Lavoro e denaro? Troppo impegnativo questo sabato per voi che avete già le gomme a terra, siete di malumore e sul lavoro stentate a rendere. Più il capo vi tiene d'occhio, chiamando in causa ogni minuto, meno riuscite a combinare. Benone almeno le finanze, senza grandi salti in alto ma nemmeno crolli epocali. Il capitaletto tiene e rimane al sicuro. Iniziate la giornata con la vostra preziosa capacità di risolvere rapidamente le situazioni. Saturno bello vi fa arrivare alla fine stanchi ma soddisfatti per tutto ciò che avete prodotto. Sole e Nettuno, entrambi i vostri fidati amici, vi suggeriscono di procedere per il momento a piccoli passi allo scopo di raggiungere un meritato successo professionale da lungo tempo agognato. Benessere. Fiacchi, addirittura spappolati, il lavorio mentale spinto alle estreme conseguenze oggi vi ha stancati parecchio, per non parlare dei soliti malanni cronici ancora silenti ma pronti, come fanno a ogni cambio di stagione, a metter fuori il capino per dirvi ciao, ciao sono ancora qui. Con i rimedi giusti, possibilmente naturali, li ricaccerete subito giù a dormire nella loro bottola, intanto però stasera non siete in forma e si vede. Denaro. Mercurio è negativo e venere positiva. Forse non è il caso oggi per voi di tentare la fortuna al gioco. Provateci in un altro momento e per ora dedicatevi a più stimolanti interessi. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie. 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 Grazie.